Qual è la posizione della Lega Nord sulla riforma del Senato proposta a Renzi? In realtà questa è una riforma pasticciata perché si sarebbe potuta tranquillamente fare una spending review tagliando del 50% sia i senatori che i deputati. Si poteva fare un Senato elettivo, un Senato delle Regioni, togliere il bicameralismo perfetto. In realtà Renzi ha un'estrema difficoltà soprattutto all'interno della propria maggioranza. Noi voteremo la riforma, però una riforma che sia seria e non la costituzione di uno pseudo comunitato dei sindaci, questa cosa che vuole Renzi che non ha nessun senso neppure costituzionale.